e adesso ti mettiamo i cocchetti sai? ma che adesso ti mettiamo i cocchetti? ma no dopo vieni qui nel tuo nido eh questo è la caretta con le riccele? quanti li mettiamo? 9 no, 9 sono riuscita a dare se potrei mettere neanche di più eh? eh bisogna mettere le lampare, le lamparezzi eh però seguimi sono andata a spaccare e gli è bei granditi quindi dovrebbe essere c'è questo qua ti aspettiamo è grande, è bella e quindi stavano c'è tutto e quindi stavano e tutti e allora e stavano e allora